Sabato partirà il Giro d'Italia la centoduesima edizione. L'Ufficio della Pastorella dello Sport sta organizzando un incontro con l'Arcivesco perché anche questa grande manifestazione sportiva, anche grande evento mediatico che mostrerà la bellezza di Bologna, del suo centro, della Basilica di San Luca, dei suoi portici, possa avere una benedizione. Per l'occasione l'Ufficio ha predisposto un rosario, un rosario molto particolare realizzato con una catena della bicicletta. Al vertice c'è una medaglia che ricorda il profilo della Basilica che tutti conosciamo da nord, est, sud e ovest. Noi vediamo questa immagine, il profilo che si raggiunge attraverso i portici. I ciclisti lo percorreranno e la catena della bicicletta in un certo qual modo ricorda questo movimento degli archi dei portici che portano alla Basilica di San Luca. Il desiderio è che il Giro d'Italia contribuisca a ricordarci come tutti coloro che salgono su alla Basilica di San Luca a piedi, correndo attraverso la bicicletta, sappiamo che anche Monsignor Vecchia, un grande ciclista appassionato di ciclismo, possono fare di questa attività sportiva anche un'occasione di devozione alla Beata Virgine Maria.